Ma c'è già il presidente, Aurelio De Laurentiis, al quale do il benvenuto. Corrafia, tu sei greca? Nebel. Sono greca, sì. Tifosa del? Olimbiagos. Olimbiagos. Noi ti dobbiamo invitare per questo. Ma adesso cambio squadra, io sono in Italia, adesso cambio squadra. C'è Luisito Suarez. Io tifo Inter. Tu tifo Inter? Immagina Juve, ma intanto il caso. Ma io sto parlando, scusate, a dire che le parole sono importanti. È giovanissimo. Io, Maricò, è figlio di... Cioè, quello è già la partita, eh. Signore, è più Roscialanto, lì. Non ci sono dubbi. Puoi anche non pensarle. La rabbia, scusami, no. Perfetto, benissimo. Parole bellissime, le tue. Hai detto tutto tu. Siamo pronto, cuore di tutti noi, eh. Se il cielo ho un mio cervello e riesco a... Pensano che faccio un po' la portavoce di qua. Ho fatto più paura le squadre un pochino più piccole, che piuttosto sono un po' più internazionale, un calcio più offensivo. Non il padre. Parlava solo di... Esatto. Sì, a strecche senza muoverci. No, io volevo fare un regalo a Francesco Dodi. È dalla Grecia. Benissimo, è il momento dello spariglio. No, spiego perché. Parliamo di altro. Che cos'è la maglia? Ok, questa è la maglietta di Olimpiakos. Perché noi greci vogliamo... Vogliamo che prossimo anno giocare all'Olimpiakos Francesco Totti. Eccolo. Abbiamo trovato, abbiamo trovato all'altro. Non è carino come te. Ma è veramente, sono quasi con... Greci che giocano a Roma. Entro le due di notte. Ma ne sa, ne ha appena detto... Eh, da Manolastro e Siris che sono a Roma. Manolastro e Siris. Di Bala è sempre più un... Non si sentiva perché non si sentiva sicuro della sua squadra. Se tu non avessi neanche quello lì. Ecco, bene. E' delegato. Le ho agevolate. Che immagini? Velocizzare. Vediamo, vediamo. Che immagini? Che immagini? Non ci sono le immagini. Non ci sono le immagini. Non ci sono le immagini. No, comunque grazie. Anche se non è... Perché... Tania, il greco e il musano. Attena con dei tempi, ragazzi. Va bene, i tempi... Sai chi ne ha parlato di Saponara? Sentiamo. La Fanara. Straordinario, eh. Tutti i tifosi non si meritano di essere condannati, insomma. Va bene, va bene. Ma così? Beh, ha detto, insomma, con un sorriso anche la UEM. È un assist. Buonasera. Sei bianconera. Dico in senso traumatico. Bianconera. Beige e nera. Volevi forse... La sera, però è il giorno più bello. Antonio, tu appena tornata la notte agli oschi. Ti posso baciare? E grazie per l'invitation. Mi puoi baciare? E che prima giocano un calcio più spettacolare... Eh, ha raggiunto... No, i calendari... Io le ho quasi tutti. Sì, sì. Un altro attaccante, così, era Inzaghi, che comunque stava in aria, stava lì, però la metteva sempre dentro. Quindi, feri di gol, va bene anche, che magari non faccia le vasche avanti e indietro. Però Fussi... Ecco che posso dire... Guardo mi... Sì. Ma ripartiamo da qui, perché è un po' il tema... No, no. È il minuto. Poi c'è l'1-0 con Mughi... Ciccio, vuoi aggiungere qualcosa? Vai, molto carino. Poi, tra l'altro, località, sono 4 di squadra. Nel frattempo... Magari lo faccio volentieri ancora. Meglio una nazione... Perché comunque... Che per me, insomma, adesso deve aspettare un attimo, perché io a Milano... Sì, vedo l'avversario. Prevalentemente, che a un certo momento hanno... Non è che sia poi così. Timo ulteriore. Rivera, le sarebbe piaciuto 40, ne faceva 80... No. No, stavo... Sparare sul calcio greco. Ma fa impressione, cioè... È una specie di... Ma a te non è chiesto. Ricordiamo che ricordiamo attraverso il suo primo libro, anche se lui poi fa il timido, il modesto, ha contribuito... Così ha detto lui. Quindi è anche... Per 8 maggio. Voglio dare uno particolare alla me. Melissa la vuole... In un altro ruolo. Un altro ruolo. Beh, a me piacerebbe. Lei piacerebbe. Comunque è un allenatore... A Melissa... Faccia comunque... Però prima ha detto una cosa lì più interessante. Ha detto, allenatore della nazionale no, però in un altro ruolo si... Fabio Cannavaro... Recentemente non è successo. Andate a casa, che sta lì. Perché... L'importante... Oh, Brenzina, giusto? No. Perché dov'è... No, 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 no. Comunque... Comunque... Una discussione fra due... Non è una guerra. Di Caristea. Oppure anche... Anche... Caristea. Manolas, Manolas. Manolas. Adesso a Roma è un altro più... Più... Minokis. Che Minokis? Ma gli scherzi. Madrid, Madrid. Sembra così buono. Non è caduto nella trappola di domanda. E poi abbiamo il gioco per... Comunque c'è la parata la ragazza. Siamo in mondiale. Sono grazie. Sono grazie a Senna Fiorentina. Un gra... È molto... E per vivere... Non posso... Una pietra miliare.